Nintendo Switch è ormai di fatto una delle console più popolari della casa di Chioto, che ribadisce in modo massiccio la sua presenza anche per l'edizione 2018 di Lucca Comics & Games. Con uno stand che occupa praticamente tutta la superficie di Piazza Bernardini, la grande N propone ai suoi fan il meglio dell'offerta di Switch, tra esclusive come Zelda, Splatoon 2 o il più recente Super Mario Party e altri titoli come Wolfenstein, FIFA 19 o la versione Switch di Diablo 3, che sta per arrivare proprio in questi giorni. A farla da padrone sono però le due anteprime che riempiono con le loro grafiche anche l'esterno del padiglione. Stiamo parlando degli attesissimi Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eve e di Super Smash Bros. in arrivo a dicembre su Switch. Non solo giochi però, perché venerdì 2 novembre alle 17 e domenica 4 novembre alle 12.30, lo stand Nintendo ospiterà quattro dei più famosi autori italiani di comics, Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Riccardo Torti e Ausonia, che incontreranno i fan firmando e regalando litografie delle illustrazioni da loro realizzate per la versione Switch di Diablo 3. Grazie a tutti!